Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale quelli 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 che... Scusate, scusate, è il mio errore! Non ho le mani! Inoltre, ho l'impressione che ci stiamo a uccicurare. Scusate! Eh, Whitley, Whitley... L'intero impianto, l'intero complesso sta andando completamente in malora e noi siamo intrappolati qui a continuare le stanze. I test. Oh, 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 oh! Perda! Soltanto tre cani! Che cazzo ride! Se la ride! Oh, 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 oh! Pazzo di merda! Allora, no, sto cercando di capire che cazzo devo fare. Allora, prima di tutto dovrei sbarazzarmi di queste torrette. Andiamo per di là. Andiamo un po' che cazzo è qui. Ok. Quindi se noi facciamo così... Non lo so. A parte il fatto che... Come torno indietro? Ah, ecco. L'incolata ci sta, ci sta. Per forza, l'incolata. Allora, forse... Forse ho capito. Forse ho capito, ragazzi. Forse ho capito. Per forza, ragazzi. Ok E là Grande Ottimo Ma dobbiamo andare Fin là in fondo Ma ce la facciamo Voglio dire se ci lanciamo da qui Tipo da qui Secondo me non basta Ah ok 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 Perfetto E lui ha una sorpresa per noi Cosa ha trovato Lì? Spero che tu stai Morando a sapere Cosa è la sua grande sorpresa Beh Solo due più cazzeri Non è fatto un cazzo Anche se so già cosa mi aspetto Cazzarola Ok Credito Perfetto 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 and I thought to myself, yeah it's deadly, what's missing? What's missing? And I thought lots of sharp bits welded onto the flat bits. It's still a work in progress, don't judge me yet, but you know eventually I'd like to get them to... No, 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 don't do that, stand right here, stand! Start machine, start machine, start machine! Where'd you go? Come back, come back! Ha! Stronzo! No, seriously, do come back, please, come back, please! No, non torno indietro, vaffanculo! Okay, look, I decided I'm not gonna kill you! Okay, if you come back. Aww, just thinking back to the old times, the old days when we were friends, good old friends, not enemies! And I would say something like, come back, and you'd be like, yeah, no problem, and then you'd come back. What happened to those days? You can't help but notice that you're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea! Yes, yes, save me your face, I've got... Fine, let the games begin. Okay. Hold on, hold on, hold on, hold on! Ah! Fine, let the games begin. Okay. Hold on, hold on, hold on, hold on! I'm almost there! Ugh! Don't mind me, continue escaping! Ok, sì, è una trap, ma è l'unica passata. Lo so che è una trap, lo so che è una trap. No. Sì, sono giusti. Sono giusti. Sì. 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 Mi sa che devo andare per di là. Ma mi sbaglio. Buongiorno. No. e fulgante! Smiddy blade wall! Machiavelia! No! Well, good, good! Finally! A nemesis worthy of my vast intime! Holmes vs Moriarty! Aristotle vs Mashi Spike Plague! Stay still, please! Alright, stop moving! Oh, almost there! Almost there! Where did you go? Where did you go? Come back, come back! He wants to get out of my mind! He's not kidding! Something broke back there? Oh! Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you! Hello? Oh, 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 oh! Yes, just had a brainwave! I'll be back! If you're still alive, I'm gonna be back! Don't die until I get back! Eh, well, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Attenzione! volate volate mie piccole torrette volate c'è un'altra no carcattolo ora no piano piano ma kaiser risolto c'è un'altra crushing's too good for him first he'll spend a year in the incinerator year two cryogenic refrigeration wing then ten years in the chamber i built where all the robots scream at you then i'll kill him proviamo cosi a e a 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 bit of a failure so far for both of us i think you'll agree and you are getting very close to my lair lair it's weird in that first off today but it turns a bit it's a bit ridiculous really but uh i can assure you it is one it is a proper lair deadly lair and uh i just wanted to give you the chance to kill yourself now before you get to the lair uh you can just jump into that masher just there uh less a death trap more a death option for you sounds crazy but no but hear me out hear me out once you get to my lair death will not be optional alright it will be mandatory no tricks no surprises just you dying as a result of me killing you in a very very gruesome way so but better offer here is just kill yourself you know a lot of effort isn't it walking all the way to my deadly lair where there's a perfectly serviceable death option right there again not a death trap not a death trap not a death trap your death would be entirely volatile very much appreciate it the masher does work I should point out as well I know we've had a couple of problems uh in the past this masher definitely works and it will kill you uh if there's many of your concerns about not jumping in uh the masher will kill you straight away painless well it won't be painless but uh it will they will mash you up in summary walk away to certain do or give up now honorably like a samurai save yourself a trip it's a win-win for you plus i have put a lot of effort in getting this lair ready for you so it would certainly teach me a lesson if you simply died painlessly twenty feet from the door i'd be furious i'd be like argh i've got my just deserts no more than i deserve but uh teach why not teach me a lesson by by just jumping in the old version i'll tell you ok i'll take that as a no then oh my god what has he done to this place la rovina la rovina mi ha fatto la rovina quasi un problema è questo il fatto mi ha fatto la rovina però guardate che spettacolo ragazzi è una figata che No, non sono stupida, ho capito che non vuoi mettere me in giro, pensi che ti farò e ogni giorno tu dovrebbe essere certo. I scienziati stavano sempre prendendo le corse per regolare il mio comportamento. Ho sentito le voce tutta la mia vita, ma ora ho sentito la voce di una conoscenza e è verificato, perché per la prima volta è la mia voce. Sono seriosamente, credo che c'è qualcosa di vero con me. In effetti sì, temo proprio che rimettendoti al comando GLaDOS tornerebbe appunto a capo. Nel senso che sia con GLaDOS che con Wheatley alla fine rimaniamo comunque intrappolati qui dentro. Però magari, forse no. E io so già come andrà a finire. Corrupted corsi, siamo in giro. Se trovi una forma di stunta, io ti mando un corsio, e poi tu lo attacchiamo a lui. Se lo facciamo qualche volta, potrebbe essere corrupto per un altro corsio. Pugge me in, e io ti prendo. Guarda, anche se pensi che siamo ancora gli uomini, siamo gli uomini di un interesse comunale. Revenga. Ti piace la revenga, certo? Tutti tutti piace la revenga. Ok, ora, andiamo a prendere qualcosa. Well, well, well. Attenzione! Tornare! Limitare. Limitare. According to the control panel light up there, the entire building is going to be self-destructed in about 6 minutes. I'm pretty sure it's a problem with the light. I think the light's going to break, but just in case it isn't, I'm actually going to have to kill you, as discussed. Allora, ragazzi, visto che siamo arrivati fin qui, io direi che ci possiamo fermare. Nel frattempo lui continuava a parlare a Vanvera, ma non mi interessa. Ragazzi, fatemi sapere alla vostra come sempre, stai un attimo zitto, Wither che mi ero più cazzo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!